Questa è un'altra chicca della fiera, è una 1.4 Fiat D53 in vendita, tra l'altro, pazzesca E' un pezzo unico, pazzesca, ottimo stato, fantastico motore, guardate che bello Questo che ha fatto, quando me l'ha portato? Listo, pazzesco, guardate che bello, in perfetto stato E' un venicciato di nero tutto Ruote di scorta nuova Ottimo stato Per ulti da cromare, ma che bello così Pazzesco Un piccolo e mezzo, ragazzi, questo mezzo non lo dovete perdere Pazzesco Ci sono anche trattori in vendita Un classico furgone Ma questa è una versione particolare Questa qua E' una versione Per professionale Con 5 posti E' un vano di carico Pazzesco Questo è un classicone Ma questo è la vera chicca Ma questo è una vera chicca Ed è un'altra cosa Grazie a tutti.